Siamo con Aldo Cazzullo e gli faremo la domanda del momento. Cosa ne pensi della situazione di Mimmo Lucano, di Riace? L'ho scritto sul Corriere della Sera, non è che essere eletti dal popolo dia l'immunità, però prima di arrestare un sindaco, i magistrati devono pensarci molto bene, non ho dubbio che quelli di Locre l'abbiano fatto, però se davvero l'accusa più grave è aver combinato dei matrimoni, non vorrei essere nei panni del PM che dovesse sostenerla a un eventuale processo. E su quello che sta accadendo in politica in questo momento? Io ho appena scritto un libro che si chiama Giuro che non avrò più fame sull'Italia della ricostruzione, che era un paese in cui c'era una classe dirigente, oggi non vedo una classe dirigente all'altezza della situazione, il che vuol dire che dobbiamo essere noi a cavarci dai guai con lavoro e con maggiore fiducia in noi stessi e nel nostro paese. E ma si va verso la... bisogna fare opposizione sociale? Beh insomma intanto c'è un governo che ha un ampio consenso, che governi e che faccia delle scelte giuste, non mi pare che la manovra vada in quella direzione. Grazie. Ti ringrazio tantissimo. Ciao.